Adesso andiamo a Trani dove l'Ordine degli Ingegneri della BAT ha organizzato una serata per salutare i nuovi soci ma soprattutto per ricordare Pietro De Feo, ingegnere e anche presidente dell'Ordine. Una borsa di studio infatti sarà istituita in sua memoria. Il servizio. Gli Ingegneri della BAT si incontrano per ricordare e per celebrare chi ha speso 50 anni della propria vita per questa professione straordinaria. Ebbene sì, l'Ordine della nostra provincia di Barletta Andiatrani ogni anno dall'inizio fa questa cerimonia dove premia con una medaglia d'oro i colleghi che hanno maturato 50 anni di iscrizione all'Ordine e quindi ogni anno ci incontriamo, facciamo una piccola cerimonia e consegniamo a loro questa medaglia per tutta la loro attività. Oggi oltre a vivere questo momento interessante e bello anche di esempio alle nuove leve e ai nuovi colleghi ingegneri che si iscrivono abbiamo abbinato anche un momento per ricordare il caro Pietro De Feo, l'ingegnere De Feo che è stato presidente l'anno scorso, sino l'anno scorso poi è venuto a mancare e quindi con la scuola di Andrea, con l'Istituto Tecnico Industriale Iannuzzi abbiamo pensato ad una borsa di studio che verrà consegnata ai ragazzi dell'ultimo anno in ricordo dell'ingegnere De Feo che era professore in quella scuola. In più abbiamo pensato poi per completare questa cerimonia di fare l'accoglienza ai giovani ingegneri che si sono iscritti nel corso del 2019 quindi proprio una specie di collegamento virtuale fra chi ha fatto 50 anni e chi ancora qui sta bene, è vecito, lavora ed è operativo e i giovani ingegneri. Ed è anche un momento per fare una riflessione su questa professione sempre più complicata per le norme che cambiano continuamente ma sempre più stimolante. Hai centrato perfettamente, io nel discorso che ho preparato è chiaro che farò riferimento a quello che tu hai appena detto cioè è una professione che è cambiata nel senso tradizionale, non esiste più, bisogna aggiornarsi, bisogna preparare i giovani al mercato europeo bisogna preparare i giovani alle nuove soluzioni innovative, tecnologiche, è un modo diverso di pensare, non c'è più la professione come una volta e noi l'ordine, oltre ad essere un osservatorio e ad adeguarsi un po' a tutte quelle che sono le situazioni al libro nazionale deve promuovere anche sul proprio territorio queste nuove situazioni.